Una distesa di campane in festa appartenenti alle 1107 parrocchie della Diocesi di Milano hanno salutato l'arrivo di Papa Francesco nel capoluogo Lombardo. L'intensa giornata del pontefice ha preso il via dalla periferia, precisamente dall'864 di via Salomone, nel quartiere Forlanini, facente parte della parrocchia di San Galdino. Le cosiddette case bianche, costruite negli anni 70 a meno di 5 chilometri dal Duomo, sono un concentrato di vecchi e nuovi problemi sociali, dalla manutenzione degli immobili al disagio di chi ci vive, a causa soprattutto di importanti sacche di povertà. In un clima di grande gioia e riconoscenza, incontrando alcune famiglie nei rispettivi appartamenti e residenti e rappresentanti di rom, islamici e immigrati nel piazzale, il pontefice è ringraziato per i doni ricevuti. Una stola interamente realizzata a mano, simbolo che il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo, è un'immagine della Madonnina di San Galdino, prima e dopo il restauro. Proprio l'esempio di Maria, che sempre ci viene incontro, non per fare proseliti, ma per accompagnarci nella vita, deve spingere oggi la Chiesa a non rimanere ad aspettare, ma ad andare verso le persone, soprattutto quelle che vengono abbandonate ai margini della società, credenti e non credenti. Una missione in uscita per portare a tutti Gesù, che è l'amore di Dio fatto carne, che dà senso alla nostra vita e la salva dal male. Nel suo saluto il pontefice ha poi insistito sul restauro subito dalla statua, perché tutti abbiamo bisogno di lasciarci restaurare dalla misericordia del Signore, di lasciarci ripulire nel cuore, specialmente in questo tempo di Quaresima. Grazie. Grazie. Grazie.